Per l'ultimo appuntamento al Cinema San Marco alle ore 17 alle ore 20 sarà visibile Romeo e Giulietta direttamente dal teatro Bolshoi di Mosca. Per la serata di martedì 26 giugno invece l'associazione San Bernardino di Ranzanico organizza una gita alla città di Brescia con partenza dalle ore 14 dal centro storico di Ranzanico e ritorno alle 19. L'appuntamento per i più piccoli è alle ore 16. Nel cortile della biblioteca Caversazzi a Bergamo sarà proposta una merenda con letture. A seguire andrà in scena il riadattamento della Bella e la Bestia per un teatro di narrazione rivolti bambini. Segnaliamo infine la mostra autodesiderante Monumento Viaggiante in via Pignolo che si concluderà sabato 29 e che propone le opere di Bianchini e Minoglio nelle quali l'avanguardia va a fondersi con i materiali popolari.